Ciao a tutti, vediamo oggi come cambiare l'immagine dei profili di Netflix, ecco qua, quindi vogliamo cambiarla, è molto semplice, clicchiamo in alto a destra dove ho appena fatto vicino alle notifiche, clicchiamo su gestisci profili, è esattamente sotto tutti i nostri account, gestisci profili, vado a premere il mio e vado qua dove c'è l'immagine letteralmente, schiaccio sulla matita ed ecco qua abbiamo l'accesso a tutti gli avatar, quindi ne seleziono uno, voglio questo qua azzurro, faccio procedi e vedete che io ho cambiato. Mi basta fare poi salva, vado qua su fine, il mio account è stato cambiato, quindi l'immagine adesso è cambiata, non possiamo caricare immagini personalizzate, sappiato, quindi abbiamo solo quegli avatar predefiniti, se avete altre domande lasciate sotto un commento, io vi ringrazio, alla prossima, ciao ciao!